Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale, Giulia310Visioni. Aspettavo con grande interesse questo albo, perché negli ultimi mesi Giulia mi sembra che si è intraprendendo un percorso che porta la testata verso dei cambiamenti anche interessanti. Ne ho parlato nei video precedenti, vi dicevo il ritorno di Mirna, il rapporto con Ettore che porterà probabilmente, verosimilmente, a una soluzione in un senso o in un'altra e soprattutto il fatto che comunque Giulia piccoli passi, e in questo albo si nota molto, sta tornando a essere più criminologa rispetto a quanto non avesse fatto negli ultimi albi, negli ultimi numeri, ossia essere una mera detective. Invece, da questo punto di vista, poco da dire, anzi sono molto soddisfatto. Però ho trovato anche qualcosa che non mi ha convinto in questa storia, ma andiamo con ordine e vi spiegherò di che si tratta. Allora, l'albo si chiama appunto Visioni, è stata scritta e sceneggiata da Giancarlo Berardi e Maurizio Mantero, i disegni sono di Federico Antinori, la copertina come sempre di Cristiano Spadoni e il lettering di Valentina Peirano. Cominciamo dalla copertina, un disegno molto bello, molto affascinante che Cristiano Spadoni ha portato e che mi ricorda molto il genere nero dei fumetti degli anni Sessanta. Sono leggendo Diabolica in questi giorni e ho ritrovato dei collegamenti, a cominciare da questo primo piano di Giulia, queste persone, questi oggetti o questi animali sullo sfondo che in qualche modo attanagliano la sua mente, e anche questo arancione che sembra quasi un mirino, molto veramente da fumetto degli anni Sessanta. Sicuramente un'ottima copertina. Complimenti a Cristiano Spadoni. Molto bello anche questo frontespizio, disegnato da Fenico Antinori, che oltretutto ha fatto un ottimo lavoro anche dal punto di vista grafico, ma ci arriveremo. Prima volevo un attimino ricordare, come ha fatto lo stesso Giancarlo Berardi, Luca Vannini, scomparso il 22 maggio scorso e che disegnò il primo storico numero di Giulia. Purtroppo ultimamente ci stanno lasciando molti autori bonelliani. Sulla storia. La storia riguarda molto un caso di schizofrenia di una donna che soffre anche di una forma di sclerosi multiple, che quindi è sulla sedia a rotelle, che pare immaginare dei delitti che effettivamente avvengono e che vengono trascritti dalla figlia, che poi si rivolge a Giulia per cercare di capire cosa fare, se sia plausibile questa cosa o meno. L'albo si apre proprio con un omicidio che avviene in maniera molto afferata da parte di questo assassino che cattura un ubriaco, lo lega con delle fascette a un bancale, lo tortura e poi lo uccide con una coltellata nella gola che penetra fino al cervello. Una descrizione molto afferata di questo omicidio che prende la bellezza di oltre dieci pagine. All'inizio infatti pensavo che fosse un omicidio bello e buono, poi invece si scopre che è un racconto che fa questa donna a Giulia e quindi pensavo che fosse soltanto diciamo un esperiente letterario, ma in realtà poi l'omicidio avviene davvero. Ce ne sarà anche un altro con dinamiche simili sempre descritto da questa donna alla figlia. E quindi Giulia inizierà la sua indagine criminologica e qui davvero mi soddisfa molto l'aspetto, quasi come se dovesse recuperare in un albo tutti i momenti in cui non è stata criminologica, perché lui è veramente in maniera scrupolosissima e protagonista al 100% di questo racconto. La polizia sarà veramente di contorno, apparirà in pochissime tavole. E l'indagine di Giulia riguarderà appunto questa, diciamo questa donna affetta da questa grave invalidità fisica e anche mentale e quindi è tutto il contorno in cui lei si è trovata a vivere quindi Giulia andrà nella clinica psichiatrica in cui era stata ricoverata, incontrerà anche altri pazienti che con lei erano stati ricoverati e quindi inizierà la sua indagine. Quindi che è molto interessante, molto veramente da criminologa, da Giulia dei vecchi tempi, intervallata da questi due orrendi omicidi e poi ovviamente alla fine si arriverà a risolvere il caso, però è lì che secondo me è stato un po' debole il finale perché chiaramente non c'è niente di sovrannaturale ma questo non è uno spoiler però le spiegazioni che sono state date che poi fondamentalmente riguardano sempre la miseria umana, miseria intesa come la pochezza delle persone secondo me rende poco credibile il racconto il motivo per cui vengano compiuti questi omicidi secondo me non è molto plausibile, è un po' deboluccio. Non voglio dirvi altro perché chiaramente non voglio spoilerare più di tanto il racconto però posso dire che l'idea iniziale è buona soprattutto con questi due orrendi delitti che vengono perpetrati. La prima opera di questo gioco che serve il fantomatico assassino ad opera ai danni di una persona alcolizzata e il secondo nei confronti di Patti che è una prostituta che morirà nelle medesime condizioni, nella medesima situazione. Il finale però non mi convince molto perché dopo questa indagine molto scrupolosa che Giulia fa quindi diciamo incontrando sia questa donna che vi faccio rivedere che questa di qua sia la figlia che abbiamo visto all'inizio e che vediamo anche adesso alla famiglia si chiama Relly madre e figlia nonché tutti i vari pazienti che erano stati ricoverati insieme a questa signora Relly è molto interessante anche se a volte mi sembra un po' troppo quasi scrupolosa ecco fin troppo scrupolosa fin troppo precisa che tende anche in alcune tavole un po' non dico ad annoiare però ad allungare eccessivamente il racconto beh è una mia percezione questo tutto sommato ci può stare e a me è il finale che non ha convinto molto perché mi sembra un po' troppo inverosimile le motivazioni che poi vengono fuori sul perché vengono compiuti questi omicidi ma non ve li voglio raccontare non voglio parlare di altri personaggi coinvolti di contorno nel racconto perché sono tanti e quindi diciamo storia che promuovo per l'idea iniziale per la truculenza per l'indagine così approfondita che Giulia fa da criminologa quindi finalmente torna criminologa a tutti gli effetti ma mi lascio un po' perplesso nel finale perché l'ho trovato un pochettino inverosimile poco plausibile se ci fossero state le famose 15 pagine in più sarebbe riuscito meglio no, non credo è semplicemente per me l'esperiente che viene utilizzato la spiegazione che non è che non è che non mi convince appieno sui disegni assolutamente di altissimo livello complimenti davvero a Federico Antinori perché mi hanno convinto sia quelli iniziali sul racconto che viene fatto che si nota dalle tavole ma anche in generale su tutto il resto i personaggi sono molto ben fatti anche gli sfondi, i contorni i chiaroscuri assolutamente di alto alto livello uno dei migliori Giulia che abbia letto anche a livello grafico negli ultimi mesi quindi se non fosse per questo finale che vabbè direte ha detto niente lo promuoverei davvero con un altissimo voto invece posso dire che è un buon albo soprattutto per le intenzioni e se porta e se si prosegue su questo cammino sono assolutamente soddisfatto su Giulia prima di chiudere ci vediamo mi presento i due albi che usciranno prossimamente il bis il 310 che uscirà il 16 luglio e che contiene una storia inedita della nuova della giovane Giulia che ha sostituito lo speciale della nostra criminologa da qualche anno chiaramente lo prenderò e ne parleremo e poi il prossimo numero il 311 Privé che uscirà il primo di agosto e che ha questa copertina che non mi convince appieno ma avremo modo di tornare a parlarne giù le 310 visioni ci vediamo col prossimo video io